Ben ritrovati spettatori di Le Fonti TV a questa puntata speciale di Instant Focus dove parleremo di automazione nel settore della logistica. Lo sapete, il fattore della logistica è determinante per il successo delle aziende perché archiviare e spedire le merci in breve tempo e con il minore sforzo possibile è un obiettivo a cui le imprese naturalmente ambiscono. Lo faremo in compagnia dell'ospite che ci ha raggiunto in collegamento, ovvero il dottor Andrea Danesini, General Manager di Moveo Servizi. Ben trovato dottor Danesini. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Ecco, ricordiamo tra l'altro Moveo Servizi, pluripermeata anche ai nostri elefonti awards, eccellenza nel settore innovazione, leadership, outsourcing e automazione. Quindi innanzitutto complimenti per la vostra attività, dottor Danesini. Grazie mille, siamo contenti di come stanno andando le cose nonostante le difficoltà del periodo. Insomma, l'azienda sta crescendo bene e forte di un progetto che sta portando buoni miglioramenti nell'ambito dell'automazione logistica all'interno delle nostre aziende clienti. Ecco, sì, diceva appunto il periodo non è di migliori, è complesso dal punto di vista economico, politico, però nonostante questo la richiesta di automazione logistica è in costante aumento e insomma può rappresentare anche una leva competitiva per le imprese. Ci spiega perché naturalmente a partire poi dalla vostra esperienza? Quello che stiamo verificando in questi anni è che le aziende hanno necessità di mantenere un focus sull'efficienza come è sempre stato, ma hanno sicuramente la necessità di andare incontro a una diminuzione dei costi unitari mantenendo i livelli di qualità quantomeno inalterati se non aumentandoli. Il tema è quello di come fare con una pressione sui costi di materie prime, sui costi di energia e poi anche sul costo del lavoro che obiettivamente deve nel tempo crescere per andare incontro alle problematiche inflattive che ci troviamo di fronte. Uno dei temi è quello di riuscire a rendere efficienti i processi e per rendere efficienti i processi servono degli investimenti in aree di, ad esempio nell'area dell'automazione. Ovviamente questo tipo di investimenti non è semplice, soprattutto nell'analisi preliminare di quelle che sono le necessità tecnologiche per poter addivenire a un miglioramento dell'efficienza. Ecco, quello che facciamo noi in buona sostanza è fare un'analisi preliminare di ciò che succede all'interno dell'azienda, identificare le migliori soluzioni tecnologiche presenti sul mercato per poter ottenere un risultato di miglioramento in termini di efficienza, velocità, flessibilità nel processo di evasione degli stessi e di movimentazione dei beni all'interno delle factory e proporre al cliente alcuni scenari grazie ai quali può avere un saving sui costi operativi. Il nostro focus in particolare è quello di andare eventualmente a investire insieme al cliente per poi ottenere dei risultati essendo pagati in robotics as a service. Ovviamente fare questo non è semplice, abbiamo iniziato con diversi progetti che sono già arrivati a completamento, adesso stiamo facendo un progetto con un cliente molto importante che si chiama Medicare che ci ha dato il mandato di riprogettare i flussi logistici del proprio magazzino, abbiamo inserito un'automazione molto spinta ma allo stesso tempo scalabile e modulare all'interno del magazzino, siamo in go live proprio in queste settimane, integrato con un WMS, in particolare Intellimag, con un'automazione invece in termini di movimentazione GIC Plus Robotics che ci è stata fornita da Eurofork. Grazie a questo progetto complessivo che abbiamo portato a termine ci sarà un miglioramento dell'efficienza, un saving sui costi unitari di evasione d'ordine molto importante per il nostro cliente che gli permetterà di essere maggiormente competitivo. Saremo al suo fianco nella gestione di questi sistemi e ci occuperemo di gestire l'intero processo evasivo degli ordini di questo magazzino utilizzando questi nuovi sistemi di automazione che tra l'altro siamo i primi in Italia ad aver installato in un'azienda italiana. Questo progetto ne andiamo particolarmente orgogliosi perché insomma i numeri fanno vedere che ci sarà saving, efficienza e allo stesso tempo focus da parte del personale sulla qualità dell'evasione del prodotto con una costante diminuzione degli errori. Ecco, lei ha sottolineato anche il fatto della competitività, di essere competitivi sempre di più sul mercato grazie naturalmente anche all'innovazione tecnologica. Come prevede che si muoverà il mercato del vostro settore nei prossimi mesi? Ecco, nel settore dei servizi gli scenari competitivi mi sembrano abbastanza chiari. Il settore dei servizi subirà molto presto probabilmente una forte pressione in termini di aumento del costo del lavoro, almeno questo è prevedibile, non dico nel brevissimo tempo, ma potrebbe accadere. Questo poi si ripercuoterà sistematicamente verso il cliente finale, ovviamente per quanto uno non possa assorbire in termini di efficienza a questo aumento dei costi incorrenti. Va da sé dove sta il punto focale per poter riuscire a essere competitivi in questo momento nell'essere capaci di trovare delle soluzioni che portino valore al cliente. Per portare valore al cliente ovviamente devi pensare un po' fuori dagli schemi e quindi la nostra idea di integrare uomini, robot, in squadre complessive che portino un servizio al nostro cliente ci pone in un contesto che ci permette di essere sufficientemente competitivi e avere titolo per poter parlare di efficienza all'interno delle factory e dei magazzini dei nostri clienti. Chiarissimo. Ecco, dottor Danesini, quando si parla di automazione, lei ha citato anche la parola chiave, si parla di robot, come abbiamo evidenziato anche nel titolo della nostra trasmissione, però i robot non sono tutti uguali. Ci sono anche i robot tradizionali, ma ci sono anche i cobot, i cosiddetti robot collaborativi. Ecco, tra robot e cobot, lei per il futuro prevede una convergenza o una divergenza? E' interessante come domanda. Dunque, ci troviamo di fronte a due... Allora, il mondo dei robot, parliamo degli antropomorfi, nel caso specifico che mi sta chiedendo. Gli antropomorfi sono nati come robot industriali di manipolazione automatica, mettiamo la cosa, con l'obiettivo di dare grandi produttività, grande velocità e quindi essere, come dire, il più possibile performanti. Questo ovviamente in termini di sicurezza comportava una serie di accorgimenti e di compartimentazioni fisiche che mantenessero la distanza e la sicurezza del personale dal robot. Una decina d'anni, parliamo più o meno, sono intervenuti sul mercato con alcune marche in particolare, con alcuni brand diversi cobot. Ecco, il cobot è un robot che ha bisogno, sempre un manipolatore, un robot pluriasse, che ha bisogno di una persona a fianco e fa quante parte di lavoro che vanno a semplificare o alleggerire il lavoro dell'operatore. Quindi, come dire, diventa una squadra il cobot insieme alla persona. Le performance sono decisamente più basse per una questione di vicinanza. Il robot e la persona sono estremamente vicine, condividono degli spazi e questo necessita che ci siano degli accorgimenti in termini di velocità, di inerzia da parte del robot per evitare che un eventuale impatto del cobot con la persona possa ferire l'operatore. Quindi abbiamo due mondi, un mondo di collaborazione con il cobot tra l'operatore e la macchina e un mondo invece di autonomia operativa. Caso industriale, robot industriale, grandi velocità, grandi numeri. Caso cobot, invece, supporto e chiaramente minore velocità, minori numeri. Cosa succede in effetti in questo periodo? Ci sono due possibili scenari. Lo scenario di divergenza, come ha detto lei, quindi in poche parole ci saranno delle specializzazioni, quindi l'industriale continuerà a essere un industriale, verrà sempre più specificatamente portato avanti nell'ambito industriale con tutte le questioni, le norme e le protezioni del caso e il cobot che andrà avanti nella sua area. In realtà si stanno vedendo dei fenomeni di convergenza, diversi sistemi studiati anche dal Politecnico di Milano stanno creando, mediante sistemi di visione, mediante previsione di movimenti, mediante intelligenza artificiale, stanno permettendo, come dire, forme di collaborazione più spinte tra uomo e macchina. L'avvicinamento o l'atto dell'avvicinamento dell'operatore alla macchina viene letto dal sistema e quindi la macchina immediatamente tende a rallentare, a mettersi in, come dire, in movimentazione di sicurezza. Queste procedure, a mio avviso, porteranno ad alcuni livelli di convergenza che fino ad ora sono stati sottovalutati e quindi la convergenza avrà un suo impatto. Ci saranno soluzioni che non sono né cobot né industriale, ma a mio avviso presto troveremo, come dire, degli ibridi tra i cobot ed industriali. Penso almeno questa è una visione, poi vedremo cosa ci dirà il futuro. Certo, e vedremo appunto cosa ci dirà lei l'anticipato, l'intelligenza artificiale, che ha ruolo fondamentale poi per lo sviluppo dell'automazione. E a proposito di questo, eccole, volevo fare un'ultima domanda perché sicuramente, insomma, tutti i processi automatizzati e robotizzati portano dei grandi vantaggi, lo abbiamo detto in apertura in termini di tempo, in termini di riduzione della fatica umana, però pongono anche degli interrogativi, uno tra tutti appunto la sostituzione delle figure umane con appunto i robot. Lei, ecco, rispetto a questi dubbi, come si pone? Che cosa risponde? La sostituzione umana, allora, per gradi, la sostituzione umana in alcuni lavori faticosi e iperripetitivi è qualcosa che stiamo vivendo da tantissimi anni, no? Le grandi fabbriche, le mega factory, nell'automotive in maniera particolare, hanno già grosse strutture con un numero notevolissimo di robot per manipolazioni complesse e onerose, pesanti, pericolose, quindi c'è un tasso di sostituzione al lavoro umano. Questo tasso di sostituzione però è legato soprattutto ai processi estremamente onerosi in termini di fatica e ripetitività, un po' la vecchia catena fordista, insomma, sta un po' scemando e viene sostituita dai robot lungo la catena. Però una delle cose che io mi domando sempre quando mi parlano di, il robot potrebbero rubare il lavoro, ecco, se noi pensiamo alle due principali economie mondiali che lavorano in maniera più avanzata di noi, almeno in Italia, in termini di automazione e di robotizzazione dei processi, mi vengono immediatamente in mente i giapponesi e i tedeschi, le loro strutture, le loro fabbriche, sono estremamente automatizzate. Ora, guarda caso, il loro tasso di disoccupazione è estremamente più basso del nostro, quindi c'è un controsenso, no? Se si pensa che le persone possano seriamente essere sostituite e laddove i paesi stiano utilizzando un alto tasso di automazione e robotizzazione, in realtà la percentuale di disoccupazione sia estremamente bassa. È vero che mancano da un lato figure specialistiche nel campo dell'ingegneria, dell'automazione, le stesse figure peritali nell'ambito mecatronico, informatico, robotico e logistico mancano, sono veramente poche rispetto alle necessità del mercato, magari abbiamo un tasso di presenza di operatori senza grandi specializzazioni che questi potrebbero, durante un periodo che comunque non sarà immediato, c'è l'inerzia del momento che chiaramente comporta che tutto venga automatizzato in un attimo, ci sarà un tempo e in questo tempo magari soffriranno un po' di più le categorie meno specializzate. vero è anche il fatto che ci sono percorsi di apprendimento, non è necessario arrivare ad essere ingegneri per poter lavorare insieme con i robot, oppure manutenerli, oppure collaborare con essi, quindi è semplicemente un momento di cambiamento che però, osservando quello che è successo da altre parti, ci fa ben sperare rispetto al rischio disoccupazione. Certo, però come ha giustamente sottolineato, bisognerà sviluppare delle nuove competenze, questo sì perché naturalmente il mondo del lavoro cambia, gli scenari si modificano e anche le competenze dei lavoratori devono andare di pari passo, quindi non dobbiamo temere la tecnologia ma dobbiamo comunque adeguarci ad essa, insomma mi sembra questo il messaggio fondamentalmente. Direi di sì, la tecnologia è un motore di competitività per noi, quindi se le nostre imprese adottano tecnologie, sistemi, intelligenza artificiale coerentemente a quelle che sono le loro prospettive di crescita, di sviluppo e di evasione dei propri ordini nel mercato, questo tipo di adozione permette di essere maggiormente competitive sia sui mercati interni che sui mercati internazionali e questo gli garantisce maggiori commesse e questo garantisce la possibilità di ulteriore sviluppo. È come dire un buon modo di fare impresa. Certo. Dottor Danesini, io la ringrazio tantissimo per il suo contributo, per averci condotto, insomma averci fatto fare un passo nel futuro insieme a lei, insieme a Moveo Servizi. Grazie ancora per aver partecipato qui alla nostra trasmissione sulle fonti TV. Grazie a voi di tutto, arrivederci a tutti. Ringraziamo dunque il dottor Andrea Danesini, General Manager di Moveo Servizi. Si conclude dunque qui questa puntata speciale di Instant Focus e io naturalmente vi rimando a tutto il resto della programmazione di Le Fonti.